Ciao, sopra di me sono riportate due foto dei fratelli Platov, diventati famosi perché assieme hanno realizzato degli studi scacchistici di notevole interesse. Entrambi sono stati seguaci della scuola studistica di Troischi e insieme a lui sono considerati i pionieri dello studio artistico sovietico. In realtà loro sono nati in Lettonia, Riga, Vassili nel 1881 e Mikael nel 1883. Poi entrambi furono naturalizzati sovietici e mentre Vassili morì nel 1952, Mikael morì nel 1938 nel campo di lavoro di Kargopol a seguito di una condanna a dieci anni subita perché aveva fatto dichiarazioni politiche contro il regime stalinista. Oggi mi piacerebbe proporre due studi che hanno realizzato assieme, uno del 1906 e l'altro del 1907. e vi invito a cercare in modo autonomo di risolvere la composizione. La prima è quella che vediamo riportata sulla scacchiera in cui la mossa al bianco deve cercare di pareggiare una posizione che sembra compromessa in quanto il nero ha la possibilità, cioè ha la minaccia di promuovere uno dei due pedoni che ha di vantaggio. Se per esempio toccasse al nero vediamo subito che vincerebbe abbastanza facilmente perché lui sta minacciando la mossa c3, quindi il pedone in c3 sostenuto dal pedone d4, successivamente sta minacciando di spingere il pedone in d3 e se la torre mangiasse il pedone in c3, a questo punto il pedone in d3 va in d2 e la torre non riesce a contrastare la promozione perché la casa c1 è controllata dal pedone in d2, in d3 la torre non può andare perché c'è la fiera in f1 e a questo punto la promozione del pedone sembra non gestibile da parte del bianco. e quindi la minaccia del nero è abbastanza cattiva e bisogna trovare risorse per fronteggiarla. Una prima risorsa che si può intravedere nella posizione a seguito della situazione in cui il pedone in d2 e la torre in c3 potrebbe essere cercata nel fatto che con la torre in c3 potrebbe andare in e3, dare scacco al re nero e a questo punto se il re nero va sulla colonna f, a questo punto la torre può dare scacco in f3, successivamente mangiare l'alfiere e controllare la casa di promozione del pedone d1. Quindi questa qua è una risorsa che è presente nella posizione ma è anche presente nella posizione che sullo scacco in e3 il re nero potrà andare sulla colonna d e a questo punto lo scacco in d3 è parato dall'alfiere in f1. Quindi a questo punto il bianco deve ricercare nella posizione qualche altro scenario per riuscire a condurre in parità la posizione che sembra abbastanza compromessa e la risorsa è abbastanza nascosta e è legata anche al fatto se vogliamo di una considerazione che potrebbe fare il bianco il bianco in questa posizione se avesse per esempio il re in b6 riuscirebbe a pareggiare abbastanza facilmente perché potrebbe giocare re a5 e sulla spinta in c3 potrebbe giocare re b4. A questo punto dopo re b4 il piano di prima che vi ho visto prima del nero di giocare d3 fallisce perché a questo punto il re potrebbe mangiare il pedone c3 e controllare l'avanzata del pedone d3. Quindi l'idea, la possibilità di avere un re vicino ai pedoni aiuterebbe il bianco però deve aggiungere qualche altro elemento che è nascosto nella posizione e l'elemento che deve immaginare il bianco per riuscire a pareggiare è legato al fatto di combinare l'azione del re in aiuto ai pedoni con un'altra risorsa e l'altra risorsa è la risorsa di riuscire a sfruttare la possibilità di poter con la torre dare uno scacco allora quando la donna, il pedone d2 va a donna in modo tale da creare sulla scacchiera una posizione di stallo e la posizione di stallo da immaginare che è abbastanza difficile è quella di immaginare il re in a5 quindi se voi immaginate il re in a5 immaginate la torre in c3 e il pedone che è diventato donna in d1 a questo punto la risorsa che compare sulla scacchiera è dovuta al fatto che l'alfiere in f1 controlla le case a6 e b5 e con un re nero in a5 se ci fosse una donna in d4 a questo punto ci sarebbe stallo perché la donna in d4 controllerebbe le case a4 b4 e la casa b6 a questo punto mettendo tutto questo insieme il piano che potrebbe fare il bianco è giocare re b6 su c3 giocare re a5 su d3 mangiare con la torre il pedone in c3 su d2 a questo punto dare scacco in e3 e quando il re va sulla colonna d per esempio in d7 a questo punto si può usare lo strumento di giocare la torre in e4 si gioca torre in e4 con l'idea se il pedone promuove a donna si gioca torre di 4 scacco e a questo punto donna mangiatore di 4 scacco patta pestano questa qua è tutto ciò che bisognerebbe vedere per a partire dalla posizione iniziale configurare la posizione di patta da parte del bianco adesso vediamo le mosse e la prima mossa è re b6 e su c3 a questo punto il bianco va in a5 per mettere sul piatto della posizione anche la possibilità tattica di riuscire a configurare uno stallo a questo punto se il pedone spinge la torre può mangiare il pedone in c3 e su d2 a questo punto diventa tutto più chiaro perché le risorse che ha il bianco in questa posizione sono torre 3 scacco e se il re va sulla colonna f torre f3 scacco e la torre mangiare l'alfiere se il re va in d7 a questo punto c'è la possibilità di entrare nella posizione in stallo quindi dopo scacco in e3 a questo punto il re va in d7 torre 4 idea torre d4 per bloccare il pedone se il pedone diventa donna a questo punto torre d4 scacco e se il re va via la torre mangia la donna a questo punto la donna deve mangiare la torre e nella posizione si viene a creare una bella posizione di stallo in cui i pezzi del nero bloccano tutte le case intorno al re bianco e quindi la mossa al bianco il bianco è un po' far mosse regolare la partita finisce in patta quindi questo qua è un bellissimo studio dei fratelli Platov e adesso vi faccio vedere un altro altrettanto bello sempre con un tema simile a questo che hanno realizzato nel 1907 la posizione è questa anche qua si tratta in possibilitudine dello studio visto in precedenza di una situazione in cui il nero ha un grosso vantaggio perché c'è due pedoni l'alfiere contro la torre del bianco e il bianco deve far fronte alla minaccia che ha a disposizione il nero di giocare al fiere f3 scacco e dopodiché promuovere il pedone di due a donna quindi in questa posizione il nero sta minacciando il fiere f3 scacco e promoziona donna a questo punto se andiamo un po' avanti il nero al bianco gli piacerebbe giocare torre d3 però a questo punto ci segue sempre alfiere f3 scacco re muove e dopo re muove il pedone va in d2 e dopo torre mangia mangia d1 a questo punto l'alfiere mangia la torre e quindi il nero vincerebbe perché dopo ha l'altro pedone in d6 e quindi a questo punto bisogna capire come nella posizione ci sono degli elementi che il bianco può sfruttare per trovare le risorse per condurre la patta un primo elemento che si può vedere nella posizione è che il bianco ha a disposizione uno scacco in h3 e su re g7 per esempio il bianco può dare scacco in g3 e a questo punto vediamo che se il re andasse in f6 nella posizione c'è una risorsa che ha disposizione nasce una risorsa che ha a disposizione il bianco quindi immaginate il re in f6 del nero e qual è la risorsa è che nella variante che abbiamo visto prima quindi di giocare la torre che aveva la toscacco in g3 va in d3 a questo punto quello che è cambiato rispetto alla posizione iniziale che la torre minaccia il pedone e sulla mossa di risorsa vincente che aveva a disposizione il nero di giocare alfiere f3 scacco la situazione cambia perché a questo punto essendo il re in f6 la torre in d3 può mangiare l'alfiere dare scacco e a questo punto una volta che la torre ha dato scacco il pedone non può promuovere e la torre andrà in f1 impedendo la promozione del pedone d quindi questa qua è un'osservazione importante da fare in posizione che quando la torre da scacco in h3 il re va in g7 e la torre da scacco in g3 il re non potrà andare sulla colonna f in f6 ma dovrà andare quando la torre da scacco in g3 dovrà andare sulla colonna h a questo punto quindi immaginiamo la posizione cambiata in cui il re è nella posizione in h6 a questo punto anche qua subentra un cambio di posizione importante perché quando il re in h6 e noi ripensiamo all'idea torre d3 cos'è che cambia che quando l'alfiere da scacco e il re si sposta quando il pedone d2 promuove la torre potrebbe mangiare il pedone in d6 dando scacco e questa opportunità qua è importante perché se noi l'associamo a una possibilità di stallo ci consente anche di dar scacco in d6 in presenza di donna quindi l'idea dello scacco che possiamo immaginare è che nelle varianti in cui l'alfiere dà f3 scacco e il re le immaginate in a7 a questo punto le case di controllo dell'alfiere in f3 sono b7 e a8 a questo punto se voi immaginate una donna in d6 la donna in d6 controlla le case a6 e b6 e la casa b8 quindi tutte le case intorno al re in a7 sono controllate da pezzi neri e la posizione è una posizione di stallo quindi le risorse che ha disposizione il bianco sono come nell'esempio che vi ho visto in precedenza la risorsa più nascosta è la possibilità di costruire uno stallo forzato con il piano inizialmente di dare lo scacco in h3 e poi in c3 e a questo punto dopo lo scacco in h3 in c3 il re o va in h6 o va in f6 e se va in f6 segue torre d3 e su alfiere f3 torre mangia alfiere scacco e patta mentre su torre g3 se il re va in h6 segue la variante torre d3 sul f3 il re va in a7 e a questo punto su donna prima il bianco ha l'opportunità di giocare torre mangia pedone d6 scacco e a questo punto la donna deve mangiare la torre e patta pestano adesso di alle mosse quindi prima mossa torre h3 scacco re g3 e re g7 torre g3 scacco re h6 torre d3 si minaccia al pedone d2 a questo punto l'alfiere da scacco ma quello che è cambiato rispetto alla posizione iniziale è che il re si trova in h6 e quindi sulla promozione a donna a questo punto la torre può mangiare il pedone d6 da scacco e obbliga di fatto la donna a mangiare la torre a questo punto la posizione di stallo perché la donna controlla le casa b8 e la casa a6 e b6 e l'alfiere controlla la casa a8 e b7 e a questo punto la posizione è di patta pestano come l'esempio precedente quindi i due i due esempi hanno in comune che entrambi hanno la partenza di torre contro il fiere due pedoni e entrambi sfruttano le possibilità che ha il bianco di identificare la risorsa tattica dello stallo per condurre in porto la patta in posizioni che sembravano compromesse spero che sia stata interessante anche per voi la 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 soluzione di questi due bellissimi studi dei fratelli Plato che hanno già comunque supportato altri video vi ricordo uno che ho fatto recentemente però ho fatto in quel caso precedente solo da solo vassili che era relativo comunque a un finale di torre re contro torre torre re contro re alfiere quindi hanno anche quel precedente questi hanno in comunione anche sempre la presenza della torre e dell'alfiere in quel caso qua chi è l'alfiere due pedoni di vantaggio con oggi è tutto vi saluto vi do appuntamento al prossimo video ciao